Buonasera, ci avete caldo? No, va bene. Quindi ogni parola che sentite, ogni considerazione di Malerba riferisce a ormai 40 anni fa. È una sorta di catalogo di parole raccolto nella media valle del Taro, provincia vostra, piccola porzione di terra, luogo d'origine dell'autore. Luigi Malerba restituisce la voce ai contadini che popolavano questa campagna isolata e diffidente, perfino nei confronti della lingua italiana, una lingua che identificava i forestieri, le autorità costituite, cioè l'altro da sé. Si tratta quindi, come dice Malerba stesso nel libro, di un tentativo di ricomporre l'immagine di una cultura contadina in disgregazione, utilizzando un certo numero di parole dialettali, alle quali corrispondono o corrispondevano altrettanti oggetti, strumenti e funzioni. Oggi non saprei io personalmente cosa possa essere rimasto, visto che sono passati parecchi decenni. Il repertorio lessicale nel quale le parole sono esaminate e raggruppate in capitoli tematici, cioè la casa, la terra, il lavoro, le bestie di uomini, vengono dopo le bestie evidentemente, e il cibo. E' lo specchio di una società che ha un passato millenario, quasi immobile, tutto al di qua della meccanizzazione dell'agricoltura, che coincide praticamente con l'abbandono delle campagne più povere, soprattutto delle colline. Le voci del catalogo sono spesso dei veri e propri bozzetti dipinti da guardare o da immaginare, sono micro racconti, per ogni singola parola, che restituiscono al vivo usi e costumi, attrezzi dimenticati, modi di vivere, di cucinare, di governare, la casa e perfino di dormire, nonché dei rapporti interni tra i componenti della famiglia. Sapienza popolare, fatica e gioia si alternano in queste parole abbandonate. A Luigi Malerba giocare con le parole è sempre piaciuto, a cominciare dallo pseudonimo scelto da lui stesso, che lui di cognome faceva Bonardi, quindi dal bene o dal buono di Bonardi al male di Malerba, l'erba, che al male si aggiunge anche l'erba, perché almeno in Romagna si dice l'erba cattiva l'ammor mai. Anche qua, più o meno, poi ci capiamo ancora. L'ironia, la beffa, la sorpresa, la sperimentazione del resto sono state le sue cifre distintive. Era nato a Pietra Mogolana, che voi sapete dov'è, immagino, dalle parti di Berceto, qui sull'Appennino, e con quei luoghi aveva mantenuto un legame, anche quando se ne era andato via, dopo i viaggi che aveva fatto in tante parti del mondo. Quel legame interiore era fatto di parole, era un legame che partiva dalla lingua, ancora una volta, come dimostra il libro che abbiamo scelto per questo appuntamento della rassegna Voci d'Autore. Questa rassegna è stata pensata dall'Ibici Istituto dei Beni Culturali della nostra regione, Emilia Romagna, per dare a tutti la possibilità di ascoltare alcune pagine importanti, tra le migliaia di pagine contenute nelle nostre biblioteche, attraverso gli autori che sono rappresentativi e del luogo e della biblioteca stessa, cioè questi libri sono sempre contenuti nella vostra biblioteca. Ascoltare è lasciarsi trasportare dalla viva voce di un lettore nei mondi e nei tempi immaginati dagli scrittori che hanno vissuto nei luoghi in cui noi viviamo e voi vivete oggi. La domanda però, su questo libro in particolare, siccome io leggo tutte le proposte dall'Ibici, dell'Istituto dei Beni Culturali, nelle varie biblioteche, una per ogni provincia, da Rimini, Furlì, Furlà, Ravenna, eccetera, fino a Piacenza, oggi tocca a Parma. In questo libro in particolare si parla del dialetto, delle parole in dialetto e verranno citate. E perché mai non è stato scelto uno dei luoghi, magari col dialetto, la vostra pronuncia? Ecco, come dire, per me è molto semplice, perché il libro è destinato non solo a voi del luogo, e credo soprattutto a tutti i lettori del mondo, dell'Italia sicuramente, i quali leggerebbero e leggeranno le vostre parole dialettali qui stampate, come farò io, che vengo da un'altra terra, la Romagna, sia pure della stessa regione. Appunto per entrare, come ci invita a fare Malerba stesso, nella vostra profonda cultura. Quindi che io abbia una pronuncia esatta, non proprio esatta, insomma, diciamo così. È comprensibile che io non pronuncio, poi voi mi corrigerite, come diceva il nostro, quando pronuncio una cosa sbagliata, un accento sbagliato, mi dite come si pronuncia, va bene. Ma è giusto che sia così ed è perdonabile. Anzi, io mi divertirò poi a pensare, come ho già fatto leggendo, a pensare come quella stessa parola, quello stesso significato si direbbe in Romagna. E devo dire che il 90% delle parole sono molto somiglianti. Addirittura a volte somiglia di più una nostra parola con la vostra, che siete poi di Parma, neanche di Bologna o Reggio Emilia, di quanto sia somigliante il nostro dialetto con i romagnoli di Rimini, per esempio. A volte proprio c'è una differenza abissale, mentre con voi, insomma, voi come dite oggi nevica? Noi diciamo in cui neva? In cui al naiva? In cui al naiva? Cioè, ecco, a Rimini dicono osubof. E sono romagnoli, immaginate voi quindi, no? Allora, qui parte il libro, il libro scritto da Malerba. Questo è il tentativo di ricomporre l'immagine di una cultura contadina in disgregazione, utilizzando un certo numero di parole dialettali alle quali corrispondono o corrispondevano altrettanti oggetti, strumenti, funzioni. Questo repertorio di parole sopravvissute è soltanto un testo di esperienza, con tutti i limiti e le parzialità della testimonianza diretta intorno ad una cultura che non ha più memoria di se stessa e tantomeno è in grado di produrre immagini del proprio futuro. La società contadina che costituisce l'argomento di questo testo appare subito ai nostri occhi come un sistema piuttosto rigido, dove le cose e le loro funzioni hanno con l'uomo rapporti stabili, codificati da antiche esperienze e riconfermati ad ogni generazione. Questi gelosi equilibri interni, perfezionati dalla necessità biologica del risparmio delle forze, trovano a lungo andare una loro punizione nell'isolamento, per cui questa società finisce per restare fuori dai grandi processi storici, per perdere i contatti con i luoghi dove si elaborano nuovi valori, dove si fabbricano nuovi beni, e non riesce ad emergere dalla miseria pietrificata cui la condanna l'avarizia della terra. Così il contadino non riesce a diventare protagonista né come individuo né come membro di una comunità, non riesce a conquistare il ruolo di uomo storico. Viene volta a volta conteso e commerciato, lusingato, umiliato, secondo le vicende della penuria hominum che affligge per secoli le campagne e che investe talora l'intera società italiana. Condannato a vivere nella violenza, la violenza della fame, della miseria, della fatica, il contadino trasferisce le proprie tensioni aggressive e ribellioni nel rapporto con la terra, sua unica ricchezza e sua dannazione insieme, che lo ha tradito e che lui abbandonerà. alza la voce, bestemmia, parla con la terra, si esprime con la bestemmia, la bestume. Quando ci sono i due puntini, su una U penso che sia U, un po' alla francese, voi parmigiani mi insegnate, di cui ha a disposizione un repertorio vastissimo per la bestemmia. Le parole diventano un luogo di pena dove esplodono tutte le frustrazioni di un'esistenza mancata. Gli inevitabili scompensi materiali vengono risolti sempre senza appello a forze esterne, società esterne, alle quali il contadino oppone la stessa diffidenza con la quale si difende dalla ostilità dei fenomeni naturali, cioè la grandina, il vento, la siccità. Nell'esercizio del lavoro, egli proclama la propria indipendenza di combattente, combattente solitario. Il verbo combater viene usato dal contadino per esprimere le difficoltà del proprio lavoro. Con la terra si può combattere a seconda della resistenza che oppone, con armi diverse come la zappa, la sapa, la vanga e il piccone al pic. O infine con l'aratro, quello di ferro, la piödla. Piödla va bene? Piödla? Piödla. Ah, più, più scuro. La piödla, ci sono diverse parole, con una O, con due puntini. Chissà come si pronuncia. La piödla. La piödla, l'essenziale è che l'attrezzo scelto consenta all'uomo di vincere nel rapporto di forza tra lui e la terra. Un rapporto utilitario, niente affatto idillico. La terra può essere grassa, magra, argillosa, sassosa, arida, compatta, farinosa, ben esposta o male esposta. Ma per il contadino non è mai paesaggio, panorama. L'area presa in considerazione si può delimitare entro il triangolo formato dei tre comuni di Bercetto, Solignano e Valmozzola. Cioè, Bersei, Solgnano e la Musla. In provincia di Parma, nella media valle del Taro, e comprende tutta la vallata del torrente grontone suo affluente. Una ristretta area dialettale, pressoché inedita, che si distacca sia per il lessico che per la pronuncia dai dialetti circostanti, quindi forse anche dal vostro, quindi non mi riproverate troppo, se io sbaglio un po'. Soprattutto da quelli di Borgataro e Bedonia, nell'alta valle del Taro, che rientrano nell'area Ligure, ma anche da quello parmigiano, propriamente detto, dalla bassa valle del Taro fino alla città. Quindi è una roba un po' diversa anche da, poi lo sapete, anche in Romagna, ogni cinque chilometri cambia tutto. In una società immobile come quella contadina, dove le cose e le loro funzioni tendono a conservare lo stesso nome nel tempo, qui la lingua non è oggetto di smercio o di consumo, la parola è un elemento portante dell'impalcatura culturale, prima ancora che è un mezzo di comunicazione. Intorno alle cose esiste già un sistema organico di relazioni, cresciuto insieme al linguaggio, che le definisce, che ne diventa la più efficace chiave di interpretazione. Entriamo per un momento nella cucina del contadino e facciamo una prima scelta di oggetti elementari, casuali. La bronza, la pentola, la pentola, al baslot, il cattino. Ma ridete perché lo pronuncio male, oppure... Beh, insomma, al baslot, al baslot, con una uova lunga e un po' aperta, al baslot. Il cattino. Sono due recipienti che corrispondono a due funzioni essenziali, il mangiare e il lavarsi. È un punto di partenza casuale, ma già intorno a questi due oggetti funzione, si aggregano spontaneamente per associazione, ma si potrebbe procedere anche per opposizione, altre parole che ci aiutano a definire una parte della casa, cioè sempre la cucina. La bronza serve per cuocere la minestra, così come al parol, al parol, il paiolo, serve per fare la polenta. Per cuocere la minestra serve il fuoco, al foc, al foc, al foc, al foc, che si accende nel focolare, al focler. Abbiamo individuato così all'interno della cucina un luogo, il focolare, nel quale trovano il loro impiego altri oggetti, il treppiede, al tripè, le molle, al mouillatis, qui è uguale, identico al romagnolo di Casamilla, al mouillatis, la paletta, al gavel, l'attizzatoio, la sampeina, la canna per soffiare nel fuoco, al buffon, la catena per appendere la pentola, la cadeina, la cenere, la saindra, che si raccoglie nel focolare, oltre che come concime per l'orto, serve anche per fare il bucato, la bughe, uguale al romagnolo, bughe, bughe, la bughe, ah no, qui è la bughe, voi, la bughe. Noi in Romagna diciamo la bughe, infatti, abbiamo fatto un salto, sopra, siamo andati in colline, siamo, è uguale alla Romagna. Nella Tinozza, la suiola, dove viene calcata la biancheria e poi coperta da un pesante canovaccio al bugaron, che divide la cenere dalla biancheria, sulla cenere si versa l'acqua bollente, che così diventa l'iscivia, cioè al sia, e poi scola fuori dalla Tinozza attraverso un piccolo foro in basso e viene raccolta nel baslot per essere riusata. Risalendo da un primo gruppo di parole e oggetti, si può procedere progressivamente alla definizione e ricomposizione del luogo entro il quale agiscono i membri della famiglia contadina, dove si consumano i gesti, i rituali della rappresentazione come su un piccolo palcoscenico privato, la famiglia. Al contrario di quanto succede per gli attrezzi o per l'altra nomenclatura agricola, i sentimenti o gli stati d'animo, che in italiano godono di un vocabolario ricco e pieno di sfumature, come sapete, nel dialetto hanno un lessico limitato, non vengono quasi mai nominati nella loro generalità astratta. Non entrerà mai nel parlare di un contadino di queste parti la parola amore. Ma lo stesso contadino dirà correntemente che suo figlio ha il seno amore di quella tale ragazza. Questa ripugnanza per l'astrazione, un vero e proprio horror vacui, porta il contadino a tacere i sentimenti, quelli amorosi in particolare, e considerarli sottintesi. In compenso, dispone di una discreta gamma di espressioni per definire l'atto sessuale, il momento fisico dell'amore. Le più note sono, controllate anche voi nel vostro repertorio, le più note sono Poi ce ne sarebbero degli altri, in Romagna ne abbiamo altri, fra l'altro siamo più esperti, dei montanari di vostra casa vostra. Non altrimenti dirà che un cibo è dulce, e potrà usare lo stesso aggettivo anche in senso metaforico, ma non lo sentiremo mai nominare la dolcezza in astratto. Questa è una delle differenze sostanziali tra il dialetto del triangolo Berceto-Solignano, Valmozzola, e quello parlato in città che tende a perdere i suoi connotati di concretezza per adeguarsi all'uso più sofisticato della borghesia cittadina, cioè i sentimenti, le astrazioni. Ancora, per diffidenza verso tutto ciò che non è concreto e tangibile, il contadino di questa zona, ma forse è una caratteristica comune ad altre zone dialettali, non userà mai all'infinito i verbi che esprimono sentimenti, sentimenti, ma li declinerà invece alla terza persona, cioè in riferimento ad una persona assente. Anche in Romagna non esiste, queste sono parentesi mie, anche perché parlando di dialetto uno è tirato per la lingua proprio, in Romagna non esiste il termine ti amo, proprio non è nella possibilità di concepimento del cervello del romagnolo, non esiste ti amo, però si dice, am so in amore, come è scritto qua, invece di ti amo al massimo, se è una cosa diretta, un po' di, a tvoi ben, cioè a tvoi ben, cioè non è la stessa cosa, in Romagna si dice, a Sant'Alberto, io voglio bene a Calgalen, cioè per dire, no? Anche gli animali di casa, io voglio bene in fondo, è un dispiacere tirargli il collo e poi mangiarselo, ormai si sono affezionati, per dire, nel dialetto è vero che è universale, credo, questa cosa che sta dicendo Malerba, non dirà mai odiare, per esempio, ma potrà dire invece che il tale l'udieva, cioè odiava il tal'altro, preferibilmente al tempo passato, in quanto l'odio per lui prende rilievo non tanto come sentimento autonomo, ma piuttosto come premessa o causa di un comportamento particolare. Oltre che l'infinito, è escluso, quasi sempre, anche l'uso della prima e della seconda persona, e probabilmente qui interviene l'antico pudore del contadino a confessare i propri sentimenti in modo chiaro e diretto, o a parlare dei sentimenti con la persona interessata. In questa ricerca del concreto sta la vera saggezza contadina, che spesso vediamo collocare abusivamente nella raccolta di motti e di proverbi, assunte come elementi caratterizzanti delle culture locali e che invece fanno parte soltanto della recita esteriore alla quale il contadino indugge con rassegnata autoironia. I proverbi di vecchi i proverbi dei vecchi sono il companatico dei coglioni. E' un detto, evidentemente, dei contadini stessi, quindi contraddicendo poi se stessi. Il salto che altrove si è verificato dalla cultura tradizionale contadina, ruolo della formica in questo caso, alla cosiddetta civiltà dei consumi, ruolo della cicala, ha corrotto sia il dialetto che le strutture culturali a esso corrispondenti. Nel nostro caso non si sono verificati salti, ma una progressiva degradazione verso l'abbandono, la disabitazione del territorio per cui i protagonisti non si trasformano, ma si allontanano dal loro ambiente prima di essere trasformati nel loro ambiente. La trasformazione, cioè la corruzione, avviene quindi in un altrove che non lascia spazio alla sopravvivenza nemmeno parziale e temporanea dei modelli dei linguaggi originari, non più utilizzabili fuori del loro contesto. Ammesso che le cause remote provengano da un cumulo di scontenti e irriquettezze latenti, c'è da mettere in conto, fra le ragioni contingenti dell'abbandono, anche l'arrivo del messaggio televisivo che offre, considerate che siamo nel 77, se non sbaglio, la tv comincia nel 56, non sono molti decenni, è proprio quella generazione lì, diciamo così, che Malerba ci offre di considerare, che offre, d'improvviso, a un pubblico impreparato, un'immagine abberrante della vita cittadina. Per esempio, Amsoin Sunier, ho sognato, diceva un tempo il contadino, che confidava ai sogni notturni l'espressione dei suoi desideri, delle sue fantasie. Il sogno era un costante contrapunto ad una cultura tutta terrestre, un recupero di antiche veleità, di evasione, da una condizione senza prospettive, senza molta allegria. Le immagini televisive hanno in qualche modo colmato questa esigenza di sogno, portando i sogni prefabbricati direttamente in cucina. Il contadino smette di raccontare i suoi sogni, forse non sogna più, ma sta alzato fino a tardi per decifrare le immagini che arrivano sul video e ne fa una sua lettura personale. Un suo montaggio arbitrario, le difficoltà per gli anziani di assimilare il linguaggio televisivo li portano da principio a sovrapporre un programma all'altro e a leggere i primi piani come teste tagliate. Nei più giovani, invece, le immagini televisive arrivano subito come proposta di un mondo diverso da quello vissuto fino ad allora e trasmettono una nuova spinta al movimento di fuga. Queste sono le tappe attraverso le quali passa la cancellazione di una cultura contadina che era sopravvissuta nell'isolamento, nella rinuncia e che a un tratto, per secoli, e che a un tratto si è frantumata dissipando ogni impulso alla rigenerazione. Il contadino inurbato dovrà ridarsi un linguaggio o un gergo per ricominciare a parlare, ma intanto rimane muto e solo. Nel tentativo di acquisire i valori di un ordine diverso, ha perduto i vincoli con un ambiente ormai destituito di ogni valore e significato attuale e si è destinato a nuovi isolamenti, a nuove rinunce. Le carenze di un potere che non si distingue dagli antichi signori e padroni per arroganza, per indifferenza, hanno creato nell'arco degli ultimi trent'anni, cioè dal dopoguerra in questo caso, parlando del libro che è uscito fino agli anni settanta, degli ultimi trent'anni un vuoto dal quale emerge ormai un disadattamento antropologico che non è più possibile recuperare se non rinnovando in termini politici ed economici i valori dispersi. Non so oggi, dopo quarant'anni, cosa possiamo dire di questo recupero. A questo punto ogni proposta di conservazione affettiva diventa inattuale. Salvare dal naufragio un certo numero di parole è soltanto un gesto privato e di per sé improduttivo, ma può forse riproporre un tema civile ad una società solo intenta a rinnegare se stessa. Quindi, le parole abbandonate. Cominciando dalla casa, la K. Ora, la K mi sembra addirittura una parola internazionale, credo che si dica la K da Udine fino a... No, nel riminese si dice la Keisa. Io ruba nulla. Allora, arloi, anche quello se non è internazionale, si dice uguale anche a Ravenna, bagna cavallo. Orologio. L'arluier, l'orologiaio. L'orologio da tasca, qui è scritto fra virgolette, quello con la catena, in realtà resta quasi sempre appeso ormai ad una parete della cucina. È impensabile un contadino che va a lavorare nei campi portando con sé l'orologio. Il contadino regola il suo tempo con il sole. Il sole è il suo orologio e la luna il suo calendario. bilain, bilain, gioco, giocattolo. Mentre zog, gioco, significa giocattolo per bambini più grandi, ma anche gioco in senso generale come in italiano, il bilain appartiene ai bambini molto più piccoli. Bilain, che in dialetto romagnolo si dice bilì, quindi siamo lì, non è quasi mai un giocattolo nel senso proprio, cioè confezionato come tale. Ma piuttosto un oggetto qualsiasi che il bambino assume come giocattolo per farlo giocare. Poi c'è la bronza, la pentola. Sembra prendere il nome dal bronzo, ma in realtà era di rame prima che si diffondesse l'uso dell'alluminio. La pentola di rame deve essere stagnata periodicamente, non solo quando ha un buco, periodicamente all'interno all'interno, allo scopo di evitare la formazione dell'ossido di rame fortemente tossico, un veleno. Quest'operazione la fanno sul luogo gli stagnini ambulanti, i magnan. La parte interna da stagnare viene prima lavata con l'acido solforico e quindi vi si versa lo stagno fuso che viene spalmato sulla superficie con un batuffolo di stoppa. In casua aghè sempre la bronza peina, si dice della massaia, la res dura, che sa amministrare con saggezza le risorse familiari. C'è sempre la pentola piena vuol dire che sa fare, sa gestire bene. Da noi si dice la sdora, a Bologna la sdora, qui la res dura, la reggitrice sarebbe. Buckel e Buckel sarebbe il vaso da notte. Da noi si dice e Buccalin ancora più Buccalin un po' più vezzeggiativo e Buckel sarebbe letteralmente Buccale. È probabile che in questa denominazione ci sia un'intenzione eufemistica ma può anche darsi più semplicemente che abbia contribuito a dargli questo nome il manico che in qualche modo lo fa somigliare in grande ad un Buccale per la birra. Anche il colore del contenuto a volte somiglia, forse, no, questo l'ho aggiunto io ma può essere che ci sia ovviamente. Può essere di ferro smaltato o di ceramica spesso decorata a fiori anche nella parte interna. Viene tenuto sotto il letto e svuotato la mattina dalla finestra senza guardare sotto magari che da sul dietro della casa. Si usa qualche volta al posto del baslot per buttare su l'arsia la lisciva del bucato. Cagher fuori dal Buccale vuol dire commettere un errore abbastanza grave. Da noi si dice in dialetto uguale. Si dice anche a dir no cagher te l'hai fatta fuori del Buccalin nel senso che hai fatto un guaio serio. La casa la caccia ha un bel periodo. L'ideale del contadino è di avere una casa con tutti i succomment con tutte le sue comodità che adesso non pensate che siano quelle che voi pensate ora. Le comodità si riducono a questo le porte che non lasciano passare gli spifferi nella stagione fredda una bella comodità il cammino che non fa fumo una cucina grande e calda lo spazio per conservare all'asciutto il grano e la farina una cantina fresca per il vino e i salumi una camera da letto con una buona esposizione perciò senza umidità di solito la camera da letto viene collocata sopra la cucina in modo che il calore del camino o della stufa o della cucina riscaldi durante l'inverno un calendario anche un ventaglio di cartolino con un mazzetto di spiega di grano una carta a fiori pizzi per la credenza a muro qualche fotografia in cornice sono le uniche concessioni decorative all'arredamento il resto risponde solo a criteri di utilità le pareti interne vengono imbiancate a calce ogni due o tre anni per ottenere che le scrostature dell'intonaco vengono riparate le donne devono fare infinite lamentele perché il contadino raramente sa fare lavori con la calce è più facile che sappia riparare una porta una finestra ma anche per questi lavori di piccola fallegnameria in genere pigro ma al destro in ogni caso sarà più facile che chiami il muratore o il falegname per riparare la porta della stalla anche quella di casa ai mobili si pensa una volta sola in tutta la vita al momento del matrimonio e poi saranno quelli per sempre come una cassa da morto quella è la casa è fatta di pietra a vista rozzamente stuccata e solo le case più antiche esprimono talvolta qualche pretese come l'arco di pietra sulla porta d'ingresso il cornicione sotto il tetto le finestre riquadrate con pietre scalpellinate quasi sempre la stalla fa corpo unico con la casa abitata e il pienile sta sopra la stalla al fianco della stalla o della casa ci può essere una tettoia per tenere al riparo il carro gli attrezzi il pollaio e il porcile in genere sono staccati dalla casa i tetti antichi sono coperti con lastre di ardesia quelli più recenti con i coppi canna se pronuncio bene canna la canna la canna dal vein la canna di gomma per cavare il vino dalla damigiana o dalla botte e poi il cani dal sciop le canne del fucile il cani e la gula oppure al canolus la trachea ma la parola viene usata anche in una locuzione di origine oscura per significare qualcosa che va molto bene lena canna cioè è una meraviglia è un piacere si può dare un'ipotesi di spiegazione assumendo canna nel senso di cannello che sarebbe il rocchetto che scorre e si svolge veloce con facilità oppure non sarà piuttosto l'equivalente antico del moderno è una cannonata per dire eccezionale dal momento che fin dal primo cinquecento da canna presero nome le grosse armi da sparo come il cannone fatture fatture è il recipiente di legno circa venti centimetri di diametro ricavato con il tornio da un unico tronco con quattro fori sul fondo dentro il quale viene compresso con le mani il latte cagliato per fare il formaggio al formai l'impasto così ottenuto si cosparge di sale e si lascia nella fattura per qualche giorno rivoltandolo spesso fino a quando si è indurito ben bene a sufficienza e ha preso forma a questo punto si mette a stagionare formai basot oppure a seccare fur mai sec su una tavola sospesa al soffitto con due fili di ferro sottili perché non possono arrivarci i gatti e i topi ma i topi possono calarsi lungo i fili di ferro e allora si legono intorno a questi due mazzetti di pungi topo o vi si infilano due colli rotti di bottiglia con la spezzatura tagliente rivolta verso l'alto tomo i topi laver zu laver zu 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 è qui scritto zu voi dite zu noi di zu diciamo così cioè rigovernare lavare i piatti strinzer strinzer vuol dire risciacquare si dice sia per i piatti che per i panni smugieri invece solo per i panni si può smugiere un piatto si smugliano i panni sgurer lucidare sgurer con la cendra lucidare con la cenere si usa la cenere bagnata per lucidare i recipienti di rame i ram ma anche i cucchiai i cuccher le forchette al furchetti i coltelli i curtei le padelle al padelli si dice sgurer come di una padella anche del cielo quando è sereno dal toscano antico sgorare cioè pulire dal toscano siete toscanaci insomma let let è il letto l'insul o l'insul l'enzuolo querta la coperta fedra la federa paillon per gli riccio il paglione coussin il cuscino materasso il materasso ad lan ad crane ad piom fare al let rifare il letto quando in casa c'è poco spazio i bambini si mettono a dormire in due nello stesso letto uno da capo e uno dai piedi ah è poche da ridere io quando ero piccolo così con mia sorella di piedi von da co e von da pe in senso figurato si dice al dorma da pe di chi ci sia ci sa fare diciamo così di chi non ci sa fare cioè uno che sbaglia tutto proprio non ha un'idea al dorma da pe lascia perda e qua è una schizza piccola scheggia di legno o di pietra ma si dice anche una schizza formai un pezzetto di formaggio dal latino schidia in greco schiso io offendo spacco alcune parole dialettali derivano derivano direttamente dal greco il fatto si spiega con i rapporti che avevano gli abitanti della valle del Taro con la magna grecia per commercio di ferro lavorato voi loro si con l'addirittura con la grecia la magna grecia schiubger schiubger è schiopetare la legna la legna di Sneiver la schiubger del Fugler la legna di Ginepro che sarebbe Sneiver scoppietta nel focolare Sneiver Sneiver anche le calderoste i brusè scoppiettano piettano i schiobgin i schiobgin cioè ciò schiopera non è già schiopera cioè non si fa un taglio nella buccia prima di mettere sul fuoco castrere al castagni al castagni schiuper vuol dire scoppiare quando si incominciò a parlare di bombe si sentì la necessità di introdurre nel dialetto un verbo preso prestito dall'italiano schiupera Sdas il setaccio a maglia fitta che serve per setacciare la farina e separarla dalla crusca Rumel Rumel si da noi si dice Remel ma siamo lì Rumel al principio dell'inverno se il raccolto è stato scarso la Resdura decide se conviene usare un Sdas a maglia leggermente più larga che fa il pane più scuro ma permette di tirare avanti fino al nuovo raccolto fa più scuro ma fa passare più roba il pane bianco infatti è un segno di benessere per la famiglia come la pelle bianca è un segno di prestigio per le giovani fanciulle non come adesso che si rovinano tutte invecchiando terribilmente andando a prendere il sole per delle ore Zulfanelli Zulfanelli ma non confondere con i fiammiferi sono fuscelli secchi di canapa e canavic con la capocchia di solo Zulfo Sulfer i Sulfanei non si accendono per sfregamento come i fiammiferi ma al contatto con la brace funzionava così la sera prima di andare a letto la Resdura copre le braci nel cammino con la cenere e il mattino dopo basta una piccola brace per accendere lo Zulfanello e rifare il fuoco basta toccare la brace che ancora sta respirando sotto la cenere Tevla tavola Metters o Metres voi Metres è concesso ecco qui è in doppice Metres a Tevla è per il contadino anche il più povero un rito quotidiano immaginiamo Mettersi a tavola due volte al giorno è anche un modo di esorcizzare i fantasmi della fame che lo perseguitano da sempre al piatto al tont la piatleine sarebbe il piatto la fundeine la concola ma cos'è la concola? in italiano questo eh? cos'è sta concola? la concola una cosa conca conca la concola non ce l'abbiamo proprio la scudella che è la scudella la supera la zuppiera al mesh chain il mestolo al cucer la furchetta che l'abbiamo già detto al curtello il cucchiato la furchetta il coltello la twaia la tovaglia al twaiol il tovagliolo al bicer il bicchiere la caraffa la caraffa al dgam il tegame al tavlein il tavolino il tavlot invece è l'asse che copre la madia sulla quale si impasta il pane e si stende la sfoglia la fouillée quindi passiamo alla terra la terra carda la carda è un cancello di legno composto da due traverse orizzontali e tanti cavicchi verticali infilati nelle traverse la carda segna di solito il passaggio dei campi lavorati al bosco o serve a delimitare su una carraia il confino con il vicino la carda ruota intorno a un palo fisso che fa da cardine quando si vuole tenere chiusa si lega con un filo di ferro o un palo confito nel terreno dall'altro lato per i cavicchi della carda si usa spesso il legno di ginepro che è resinoso e quindi resistente alle intemperie una piccola carda per l'accesso all'orto o alla vigna viene chiamata al cardel o al cardel del questo è una lezione che dovrebbero sapere almeno chi fa i libri usare gli accenti in maniera corretta è uno non so gli insegnanti saranno degli insegnanti qua ci sono due tipi insegno a una scuola che ci sono cinque vocali che è un errore fatale sono sette le vocali italiane perché la O e la E cambiano totalmente anche di significato se ci metti l'accento per così o per così e quindi sono sbagliato allora forse dal latino cardo che sarebbe il cardine o forse dall'italiano cardo uguale che sarebbe o scardasso pettine per cardare la lana è quella così che in qualche modo richiama la forma della carda che sarebbero dei un pettinone diciamo così cioè anche io cerco di capire assieme a voi perché no carze la carze è una carreggiata o strada carraia provvisoria che può essere quella tracciata nel bosco per passarvi con il carro che trasporta la legna o anche il percorso dell'aratro di ferro la piodla in posizione di riposo superi il campo in salita dopo che ha fatto il solco il surco il surco in discesa quasi sempre infatti negli terreni di montagna l'arratura dei campi nelle zone scoscese viene fatta a senso unico non come i pianura si va si torna a senso unico in discesa dopodiché i buoi si riposano riconducendo lentamente l'aratro in salita fino al margine del campo la cavdagna mentre il ragazzo para i buoi in salita lungo la carzè il contadino risale il solco cavando con il piccone al pic i sassi affiorati durante l'arratura cavdagna cavedagna o capezzagna da capo quindi estremità del campo dove l'aratro incomincia o termina il solco durante l'arratura dal latino tardo capitaneus che sta in testa cioè poi abbiamo ciastra la ciastra è un masso di pietra di volume e di peso tale da non poter essere rimosso da un uomo solo la ciastra può trovarsi tutta in superficie o affiorare dal terreno caverna ciastra da un campo è un lavoro molto faticoso che richiede l'uso del piccone per scalzarla e poi del palanchino al palanchien che va infilato sotto la ciastra dalla parte della scarpa e usato come leva al ciastri sono la dannazione dei contadini quando arano il terreno soprattutto quelle che affiorano appena o sono nascoste da uno sottile strato di terra perché possono spezzare la gmera il vomere dell'aratro quando le incontra per questa ragione quando è possibile vengono tolte dei campi quando è possibile perché evidentemente le dastamateina cassochi accumbate con stacciastra cioè ciastra è una parola di provenienza ligure la ciodga ciodga fosso di drenaggio coperto ecco qui non lo conoscete voi di essere un cuntadano si tratta di un fosso in genere profondo un metro e largo altrettanto che viene riempito di sassi per tre quarti e poi ricoperto di terra la ciodga la ciodga di solito viene scavato nel verso della pendenza nei terreni franosi per favorire lo scorrimento sotterraneo delle acque di infiltrazione serve anche a togliere di mezzo il pietrame è venuto fuori dalla ratura e dallo scasso quando si tratta di terreni appena dissodati tutti i sassi usavano per fare la ciodga in qualche caso la ciodga viene riempita di sassi fino al colmo e lasciata scoperta come fosso di raccolta anche per le acque superficiali negli anni della seconda guerra mondiale quando scarseggiavano i cereali si dissodarono nella zona quasi sempre abusivamente centinaia di etteri di bosco su un territorio già per sua natura franoso con effetti disastrosi una zona franata con pietrame e grossi massi in superficie viene detta lama i piccoli smottamenti frequenti nei terreni dissodati da poco vengono detti cagon di etimologia evidente nuatec nuatec è un campo nuovo cioè dissodato da poco in ogni podere i campi hanno un nome e fra questi ce n'è quasi sempre uno che si chiama al nuatec al nuatec del besdan che sarebbe il campo dei bercetesi cioè dissodato dai bercetesi poi al nuatec della vurpa il campo della volpe al nuatec del preli il campo dei peri selvatici e così via un campo può continuare a chiamarsi nuatec cioè campo nuovo anche per dei secoli saiette la saietta cioè la saietta il fulmine una saietta è scesa giù per la cappa del camino ha fatto il giro della casa e alla fine ha bruciato i vestiti addosso alla nonna lasciandola intronata e in pataia cioè in sottoveste in mezzo alla cucina è raro sentire invece di un fulmine che ha spogliato una bella figliola chissà perché nei racconti dei vecchi contadini e questo della saietta è un racconto dei vecchi prevale il grottesco sull'umorismo malizioso che è invece tipicamente piccolo borghese oltre che le nonne la saietta colpisce volentieri i grandi alberi e perciò non ci si deve mai rifugiare sotto un albero durante il temporale meglio prendersi la pioggia piuttosto che correre il rischio di morire fulminati dalla saietta sinonimo di saietta è fulmin ma c'è qualche differenza tra fulmin e saietta il primo sta in cielo tra le nuvole mentre la saietta è una freccia percorre le zone basse e zacchete colpisce gli obiettivi terrestri la saietta la fa paura il fulmine quando si vede è già passato al bestie e al lavour le bestie e il lavoro capitel capitel vabbè lo tengo in mano capitel no c'ho le lenti a gradazione come si dice multifocali però la distanza non riesco mai a capire al bestie al lavour capitel sarebbe il capitale ma non inteso nel senso proprio di Wall Street diciamo si dice al capitel l'insieme delle bestie della stalla che con comune metonimia vengono dette anche semplicemente la stalla al ganabella stalla significa ha delle bestie numerose e ben tenute al samaniel capitel si dice anche in senso più lato di chi si è mangiato tutto cioè è andato in rovina le brut capitel si dice di un tipo non raccomandabile di un poco di buono al capitel il bestiamo bovino è l'unico bene che il contadino può tradurre in denaro in qualsiasi momento la base della sua economia da molti secoli in qua kerper kerper è crepare come in italiano si usa sia nel senso di morire sia per indicare il prodursi di una fenditura di un recipiente o di un materiale legno pietra eccetera le bestie sia bovini che ovini quando mangiano l'erba medica molto tenera e bagnata spesso si gonfiano e possono morire o crepare o a me carpenavac in questi casi per salvare la vita alla bestia le viene praticato un foro nella pancia con un forbice per fare sfiatare i gas provocati dalla fermentazione crepa è un insulto di uso molto comune si dice anche scioppa gugnein gugnein è il maiale persiut il prosciutto salame il salame salsissa la salciccia grass è lardo la spala c'è bisogno di tradurre pancette uguale duleig e duleig va tradotto per me duleig è proprio lo strutto il grasso cioè quello sfuso che serve per friggere evidentemente il grasso non c'è mai il duleig ah ma voi 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 no 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 noi sì 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 non lo chiamiamo strutt quando mai e poi invece però c'è allora cioè il duleig abbiamo già visto il grasso e il lardo cioè proprio quello lì da no poi c'è il duleig che è lo strutto poi c'è la cudg la cotica la cupa capocollo e sanguinasca il sanguinascio la curatella la curatella e poi c'è proprio il grasso che è il ciccioli o la soppressata insomma abbiamo tre quattro tipi di grassume grasso ah ecco grasso ah da grasul da noi li chiamiamo i grasul voi tagliate corto con il grasso poi c'è la brasula la bracciola e sampet che ha il sampetto budei i budelli fideg fideg sarebbe fideg perché è fegato e questo è strano il fideg infatti che ha sempre l'accento sdrucciolo infatti si dice in romagnolo in romagnolo ma si traduce si dice in italiano i romagnoli dicono in italiano non so da chi l'abbia c'è un autore famoso che l'ha che l'ha detto se il fegato perché il fegato non ha rima si dice se il fegato si potesse dire fegato la rima al fegato avrei già trovato è figat quindi è fideg fideg che è il fegato rugnone che è il rugnone il maiale viene nutrito oltre che con ghiande mais e castagne con la suta o broda la sota la suta la suta qui c'è scritto con la U è inutile contestare o o broda la broda la broda la canogia la broda cioè gli avanzi della cucina mescolati al siero del latte e siron che resta dopo che si è fatto il formaggio e la ricotta la femmine del maiale è la zana o la troia il maschio da riproduzione al ver il verro chi uccide il maiale e provvede alla lavorazione delle carni macellate cioè il norcino in italiano qui si chiama mazain 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 letteralmente ammazzino sarebbe la traduzione colui che ammazza lo stiletto per uccidere il maiale l'accoratoio si chiama curadur il maiale giovane o porcello si dice pursel come il famoso musicista inglese uguale pursel la stalla del maiale è al stabi corrisponde vedo che molti dicono si corrisponde ok promosso passato sinonimi di gugnain meno usati sono nimel e porc porc strano sia zana che troia sembrano richiamarsi per strade diverse all'idea di recipiente la zana è parola di origine longobardica zainia che in italiano ha senso di cesta o di culla la femmine del maiale è d'altronde la più prolifica tra gli animali dei cortili fanno tanti ninensi dice da noi per quanto riguarda troia che anche in italiano significa femmina del maiale sembra abbia avuto origine secondo il dizionario etimologico di dante olivieri da una citazione di macrobio del porcus troianus o porco ripieno a ricordo dell'ecus troianus ma forse qui metti il forse il nostro autore più semplicemente la troia gravida di tanti porcelli può riferirsi direttamente al cavallo di troia gravido di tanti guerrieri al suo interno è una bella immagine però questa usvi gli usvi è una parola ho capito leggendo fondamentale per i contadini che io ascolto per la prima volta fra l'altro da noi da noi romani lo dico da noi romani gli usvi che sarebbero gli attrezzi di lavoro abbiamo una parola particolare che si usa forse solo in romagna da noi si dice agli erum le armi che hanno significato gli attrezzi agli erum da lavorare a volte sono anche proprio armi coltelli strani strumenti usvi questa è una parola veramente che mi arriva nuova sono gli attrezzi del contadino non di lavoro in generale ma anche quelli del farigname invece mi ha smentito subito del fabbro tutti gli attrezzi il muratore anche dell'attore questo è il mio usvi anche questo è il mio usvi sono usvi dal latino tardo usibilia la sapa al pic la vanga la sgura la scure la marasa la roncola al segrol la cetta al fer das ger la falce per il fieno la msura la falce per il grano diversa la tervella la trivella per il legno la massa la mazza al furché il tridente al badile il badile la vanga per il fein la vanga per tagliare il fieno ammassato nel fienile al rastello il rastrello la macchina da fer l'acqua la macchina da der la da der aspetta pronuncio bene questo è tutto in dialetto in dialetto mi assomiglia molto all'italiano la macchina da der l'acqua al vidi cioè la pompa per il verde rame quella lì e quella per lo zolfo per il sulfer eccetera eccetera vengono inclusi nella categoria degli usvi anche l'aratro di ferro la piodla l'aratro di legno la re l'erpice la rebgeina la pompa per il liquame della stalla la pompa pralsis pralsis sis corrisponde c'è la rossa lì che dice sempre lei è il no è il notaio che mi dice ok il notaio va bene immagino no ma deve essere veramente un'emozione soprattutto chi proviene da queste queste generazioni in genere vengono dunque considerate usvi gli attrezzi agricoli che si usano o manovrano con le mani ma in realtà non esiste una definizione netta della categoria una volta per tutte vernigon vernigon sono i lividi che da noi i romani si chiamano murlons i lividi che rimangono sulla pelle delle bestie dopo i violenti colpi della verga la bacchetta dovevano tirare quando c'è l'aratro il pelo resta sollevato sui rilievi della pelle spesso i ragazzi vengono minacciati con la cinghia il contadino fa il gesto di sfilarsi la cinghia mentre il ragazzo scappa o con la stessa verga che usa per le bestie satchap atfagnir vernigon questo è il detto forse famoso dei padri dei nonni contadini ai giovani yumi yumi sono di uomini campaner campanaro in genere il campaner fa di tutto meno che suonare le campane alfa a tut meno che suonare campani ufficio nobile che il prete preferisce eseguire personalmente in realtà il lavoro principale del campaner è quello di raccogliere presso le famiglie il grano per la parrocchia di fare le pulizie in chiesa di tenere in ordine il cimitero al cimiteri strappando le erbacce il furbo campanaro spesso in questa ultima mansione al campaner si fa aiutare dalle capre portandole a pascolare tra le tombe e via in una giornata le capre mangiano puliscono tutto il campaner viene scelto in paese tra i più poveri e fra questi si preferisce uno zoppo un nano o comunque chi non sia adatto ai lavori pesanti e che perciò si accontenta di una misera paga casante letteralmente sarebbe casante e si dice di chi vive in una casa d'affitto senza terra in paese si tratta spesso di pensionati poveri che non ce la fanno vivere in città oppure di persone di campagna che per qualche ragione cattiva salute in esperienza vecchiaia non sono in grado di lavorare la terra e si adattano a fare lavori marginali o piccoli traffici di uova pollame formaggi oppure servizi per la parrocchia o per le famiglie benestanti i contadini guardano i casante con un certo disprezzo li considerano dei fanulloni e dei parassiti i purati non c'hanno colpa Kmenointioc Kmenointioc vediamo anche il notaio sembra perplesso Kmenointioc se lo pronuncio bene Kmenointioc si proprio così come ne ho negli occhi letteralmente cioè nientissimo niddafat si dice in romani niente risposta negativa assoluta che si sottolinea chiudendo gli occhi Kmenointioc invece di tenereli aperti come sarebbe logico per far vedere che non c'è niente dentro le piccole contraddizioni Kuntadain lì ci siamo Kuntadino è chiaramente una parola presa prestito dall'italiano poco usata o poco usata in senso commiserativo oppure usata in senso commiserativo cioè le pover Kuntadain il povero Kuntadino lavora sotto il sole e suda mentre il cittadino vive all'ombra dietro un tavolo o uno sportello il contadino identifica il cittadino con la burocrazia cioè uno che non fa un cazzo tutti i giorni praticamente a volte il sogno di tutti i contadini è quello di fare studiare i figli per trovargli un posto in città oppure di fare sposare la figlia a qualcuno che non lavori la terra che non faccia lo zappatera al sapatera come talvolta si autodefinisce e autocompiange il contadino nella graduatoria sociale dei contadini il gradino più basso è quello del mezzadro amzeder poi viene il fittavolo è fittabel e infine chi sta in tal so chi sta nel suo cioè il piccolo proprietario che lavora il proprio poderino sinonimo di Kuntadain è Paisan Da Kindre è passato Da Kindre vuol dire nei tempi passati letteralmente è Da Chi Indre da qui all'indietro Da Kindre designa genericamente un passato piuttosto remoto ma non storico non riferito ad una data storica eccetera altrimenti si dice ai tempi a Barbarusa ai tempi Maria Luigia voi che siete parigini ai tempi di Barbarosa o di Maria Luigia Da Kindre è il tempo dei nonni dei bisnonni superlirami della generazione diciamo che viene di solito rievocato per testimoniare la fame le carestie i disagi Da Kindre vuol dire che proprio si stava anche peggio diciamo piuttosto che i bei tempi andati anche al contrario proprio come suggerisce una facile retorica borghese è il contrario Da Kindre ci sarebbe un gesto così come dire come con la mia mamma se dovesse dire Da Kindre che non si dice da noi romani quando la mia mamma negli anni 50 che ero molto povero diceva non c'era mai niente da mangiare c'era patate e pomodori tutta la sede a tocciare quella patata e diceva mamma qualcosa non so un po' di bistecco eh no se allora fossi stati ai miei tempi sarebbe da Kindre no e dice ma perché gli chiedevo cosa mangiavate allora ah niente diceva così ha sempre detto niente ha detto come niente no facciamo un caso un giorno tipo dice alla mattina cosa mangiavate fino a sera niente e diceva mamma ma sei qui qualcosa avrai mangiucchiato niente noi non sono mai stato capace di farmi dire che come cazzo cosa passava la giornata niente da Kindre si dice sempre alle nuove generazioni per dire eh contenta di che allora dare dal ti dare del tu dare del vu dare del voi dare del siur dare del le nei rapporti tra contadini si usa esclusivamente il tu e il voi il lei si usa nei rapporti con le persone strane all'ambiente contadino il medico il prete il farmacista i burocrati cioè quelli che il contadino considera i signori der dal siur i signori galon galon della coscia si dice ugualmente delle galline e delle ragazze la gà di bel galon ma delle belle cosce la gallina ma anche la fanciulla si ci appassò quello che viene insomma bisogna tenere presente che in zone percorse da secoli di fame l'idea di bello è diversa da quella che abbiamo oggi l'idea di bello coincide con quella di grasso vuol dire che era bella strutturata la di bel galon una lavoratora si diceva quella lavora oi una sposa da noi una sposa mingherlina oi 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 succede tu una roba quella non lavora invece quelle con due braccia così bibbal galon allora sì in campagna questo era gusser gusser si definisce l'atto sessuale alla lettera sarebbe aguzzare e infatti si dice gusser la resghetta affilare la sega e quindi anche la sega direi che insomma siamo in campi in campi ambigui diciamo così la sega il movimento della lima triangolare avanti e indietro per raffilare i denti della sega probabilmente ha suggerito l'uso figurato di questo verbo infatti da noi si fa anche così che significa una cosa precisa la deine la deine la deine è la deine è scorrevole svelto maneggevole facile una bicicletta è la deine più di un carro ma un carro si può rendere la deine ungendo le ruote in senso figurato si dice la deine di chi è svelto di mano anche un po' ladro le la deine attenzione e poi si dice di una ragazza che è la deine per significare che è un po' facile diciamo così le la deine nel senso di facile è chiaro come Dante a Beatrice che in paradiso terzo dice ma or mi aiuta ciò che tu mi dici sì che raffigurar ma è più latino dalla deine viene proprio forse da latino che era più facile forse capirlo allora stranamente ma gon è lo stomaco della gallina anche maghette quando è a maghette quando è pieno di bisogna capire anche quello scritto ma gon lo stomaco della gallina che sarebbe il maghette quando è pieno di becchime ma gon si usa in senso figurato per esprimere dolore angoscia aveire gal magon soffrire letteralmente avere un peso sullo stomaco si dice da noi il contadino localizza nello stomaco o nella pancia piuttosto che nel cuore la sede dei sentimenti voce di origine longobarda mago secondo il dizionario etimologico di Battisti Alessio magen in tedesco è infatti stomaco resdura e qui abbiamo la resdura la sdora la dici da noi alla lettera sarebbe reggitrice colei che regge o governa la casa l'estraneo che arriva in una casa e non conosce il nome della padrona la chiama la resdora signora o padrona in Romagna in Romagna si usa chiamare resdur il padrone di casa ma qui l'uso al maschile è del tutto ignorato da noi si che poi non è resdur anche lui sarà andato nel riminese proprio da noi si dice la sdora e esdor che sarebbe il reggitore uguale no? esdor adesso arriva la sdora in casa in genere è la donna che comandava la sdora è per tutto il resto del lavoro che è da l'uomo i contadini da noi anche da voi quindi la resdura fa da mangiare amministra il cibo decide quando si deve incominciare ad affettare il prosciutto l'inserre al prosciutto e fa durare le scorte di farina per il pane e per la polenta fino al nuovo raccolto si occupa del vestiario di rammendare le calze armindere i cassetti e di rattoppare i calzoni taccher al pesi al breghi e le giacche degli uomini al giubi di tenere in ordine i vestiti per la festa di fare il bucato per la bughe curare il pollame al galeni raccogliere le uova nel pollaio io ho vinto al pulè e dà la broda ai maiali la sutta al gugnin la resdura la fa la fouillè e poi il tagliadelli l'impasto al pan e la less al ver lo lascia levitare prima di infurnell cioè prima di metterlo nel forno provvede lei anche a scaldare il forno a scaldare il forno con gli sterpi secchi e i busotte fascine di ramaglie e ne calcola la temperatura dal colore dei mattoni che si sbiancano mano a mano che questa cresce ci vuole esperienza resdura si continua a chiamare per deferenza la donna anziana anche dopo che ha ceduto la direzione della casa alle donne più giovani strulger strologare indovinare va strulger va a indovinare te la pera nastrolga si dice di una donna trasandata ma anche un po' buffo un po' strana raramente si usa il maschile stroleg questo conferma che nel mondo contadino il rapporto con il magico dalla stregonaria all'astrologia è stato sempre di pertinenza quasi esclusiva delle donne a volte anche in senso negativo perché la strega e la donna e le streghe come si sa avevano una brutta fine al manier l'ultimo capitolo il cibo al che era il piatto leccare il piatto ha un senso molto diverso dipende dal dove c'è l'abitudine nelle famiglie contenite più poveri di leccare il piatto alla fine del pasto che ogni tanto la sorella la mamma o il babbo dice oh non si mangia mica il piatto oppure l'hai già lavato te da noi ci diceva significa alzarsi da tavola con la fame non placata del tutto è l'opposto simmetrico dell'antica usanza cinese di lasciare invece qualcosa sempre nel piatto per mostrare che si è sazi per rispetto al padrone all'ospite mentre per rispetto all'ospite qui da noi se lasci qualcosa nel piatto allora non ti è piaciuto va capito no dice vengo dalla Cina allora manier cioè manier cioè mangiare al pan la pulenta la minestra il formai la suppa oppure la panadela la zuppa al surbir la minestra con dentro il vino la puccia oppure la bagna il sugo il sugo l'intingolo clasion disner seina sarebbe colazione pranzo e cena appetit cioè appetito è soltanto un eufemismo per dire fame parola che si evita di nominare soprattutto in presenza di estranei abbiamo la e parsut parsut si è il prosciutto qui parsut l'inser al parsut al parsut cioè mettere mano al prosciutto cominciare il prosciutto praticamente è una piccola cerimonia che il contadino celebra preferibilmente in occasione della visita di un ospite di riguardo nel tuo onore attaccare il parsut dove si dice attacchiamoci diamo l'attacco in qui si dice l'inser al prosciutto il prosciutto è infatti considerato e non a caso e non a torto un cibo di lusso veccia letteralmente la vecchia piatto casalingo che si prepara con carne avanzata pomodori e peperoni la veccia viene preparata anche con solo pomodori e peperoni senza la carne e allora si dice la veccia con la carna scappè cioè la vecchia dove è scappata la carne ora volevo aggiungere a questi qui che siamo alla fine anche un altro paio che ho letto prima che la direttrice mi ha dato il libro che è quello appunto volevo leggere questi questi due che ancora c'è la vecchia e sgagnon mi piaceva questo perché mi ricordo che la mia nonna mia nonna viene dei tempi che ha vissuto un secolo peggiore della storia credo dei tempi in cui si mondava una mela si mangiava tutto il buono quando aveva finito il buono mangiava anche il torsolo e quando aveva finito il torsolo anche le bucce che aveva tagliato allora io gli dicevo perché lo faceva anche negli anni 50 ma perché non ti mangi tutto normalmente senza stare lì chi lo sa se era più soddisfazione forse non poteva lasciare lì le cose perché ha avuto di che di che di 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 allora sgognò torsolo di frutta ciò che rimane dopo che si è mangiato la polpa tuttavia sgagnere non equivale a mangiare ma piuttosto a masticare con forza si può sgagnere anche un pezzo di pane duro ma in questo caso alla fine non resta il gagnon poi c'è pan advesa pane di veccia il pane nero che si mangiava in tempi di carestia probabilmente la veccia dà frutto anche in periodi di siccità ed è più resistente del grano alle malattie alla grandine al vento alla siccità stessa il ricordo del pane nero di veccia ha creato il mito del pane bianco simbolo di benessere di distinzione spesso il contadino semina per uso familiare un piccolo appezzamento di grano mentana che rende poco ma come quantità ma da un pane bianchissimo è lì pensare che oggi il pane bianco addirittura no? e quindi andando nel finale abbiamo parlando di pane pane e companatico sarebbe pan e companateg il companatico in qualche caso può essere la saliva pan e spuda spuda pane e sputo che quasi viene in mente quando si dice da noi uno che proprio non c'ha niente e dice usmone e brod degli uovduri cioè mangia il brodo delle uova sode allora dice dice il ragazzo domanda cosa mangia in semel cioè cosa si mangia assieme al pane il ragazzo che ha avuto un pezzo di pane e la madre risponde la spuda e lì diciamo che finisce con questo sputo che si automangia finisce anche la lettura grazie a voi grazie a voi bravo grazie bravo 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 Grazie a tutti.